L'unigiana on the road inizia il suo viaggio partendo da una tappa fondamentale per raccontare le tradizioni, le storie e le leggende di questo territorio. Pontremoli infatti custodisce gelosamente una tradizione ancestrale quasi magica ed è quella dei falò. Ogni anno da tantissimo tempo due parrocchie, due patroni e due contrade si sfidano nella gara al fuoco più grande attirando la curiosità di tantissime persone. La contrada di San Nicolò accende la sopira il 17 gennaio mentre è il 31 nel periodo dei giorni della merla che tocca a San Geminiano. Ma chi può raccontarci di questa suggestiva tradizione se non i signori del fuoco di Pontremoli? Ci troviamo oggi qui al piedi della pira del falò di San Nicolò a Pontremoli con uno dei fuochisti Gregorio Petriccioli che ci spiegherà da dove deriva questa antica tradizione. Allora la tradizione dei falò di Pontremoli è una tradizione che si perde nella notte dei tempi quindi diciamo che si va a perdere anche la motivazione del 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 falò in generale comunque si tende a sempre a dire che viene bruciato quelli che era anche eh l'anno vecchio vengono bruciate tutte le sermenti eccetera e quindi diciamo che è anche un 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 falò di inizio un un falò di di prosperità anche per l'anno che poi verrà e che correrà eh fino alla fine per poi dopo rifarlo l'anno successivo. Questa pira altissima quanti metri è? Allora sono undici metri di altezza al centro vi è un palo sorretto da altri tre quattro pali e il diametro è la circonferenza quindi è di sette metri quindi queste sono le regole eh della pira quindi deve essere alto undici metri e diametro sette. E sappiamo anche che questo è un lavoro che ovviamente non dura solo oggi anche se si consuma in serata però in realtà ha una durata molto più lunga. Sì noi iniziamo già dalla settimana prossima possiamo dire a incominciare a fare ehm tutte le fascine eh di erica selvatica in dialetto sarebbe l'ulso ehm e li dobbiamo nascondere quindi tutto l'anno per farli seccare perché ci gli avversari tentano tutti gli anni di eh rubarceli fare gli scherzi quindi c'è anche proprio una rivalità come tradizione tra i due rioni quindi il lavoro è tutto l'anno ed è un lavoro di diciamo manovale tanto ma è anche di attenzione eh in dove poi vengono messi questi ursi per non farsi riprendere diciamo. Perché è importante portare avanti questo rituale? Io ehm sono dell'idea che in un territorio come Pontremoli è fondamentale o come anche proprio la Lunigiana è fondamentale mantenere queste tradizioni perché sono veramente il segno di una generazione eh che non c'è più ma che continua a vivere anche nelle generazioni più giovani quindi è fondamentale continuare a portare avanti queste tradizioni perché ti dà anche il senso di comunità e siccome Pontremoli ha un forte senso di comunità al suo interno noi siamo per portarla avanti più a lungo possibile e la cosa che ci rincuora è che tanti giovani si prendono a cuore queste tradizioni e si danno da fare tutto l'anno per mantenerle. E voi fochisti quanti siete? Allora eh siamo più di cinquanta poi chiaramente durante l'anno ehm si va a lavorare in gruppetti di cinque, sei, sette perché chiaramente poi ognuno ha la sua vita e quindi non è facile ritrovarsi tutti insieme in cinquanta però nei giorni del falò si lavora tutti compatti uniti per avere poi il risultato che è qualcosa di meraviglioso. E invece per quanto riguarda appunto questo questa rivalità con gli altri di San Geminiano e sappiamo che ogni tanto sfocia magari in qualche scherzo, in qualche scaramuccia. Sì, i nostri tra virgolette cugini di San Geminiano hanno con noi questa rivalità come noi abbiamo con loro che sfocia in scherzi qualche volta più innocenti, qualche volta magari più pesanti. Siamo freschi purtroppo dell'anno scorso quando ci hanno bruciato il falò già montato e noi lo abbiamo dovuto rifare in una giornata, quindi l'altro anno abbiamo rifatto il falò in una giornata. Ci sono questi scherzi, io penso che non finiranno mai e finché sono scherzi innocenti, fanno parte della tradizione, quando poi magari diventano più pesanti qualcuno ci può anche rimanere male. E per quanto riguarda invece il vostro motto che cantate di solito prima di accendere il falò e anche tutti coloro che vengono ad osservarvi? Allora il nostro è l'ololò e viva San Nicolò e viva il Vaticano a basso San Geminiano. Il Vaticano perché? Perché storicamente il Vaticano è questa zona di Pontremoli dove c'è anche la chiesa di San Nicolò e è il nostro motto. Allora siamo pronti per stasera? Eh siamo pronti sì ma siamo anche stanchi. Quanto avete lavorato? Tanto. Abbiamo lavorato tanto, ormai siamo stanchi veramente. Quanto ci avete messo per mettere sulla pira? Eh da ieri pomeriggio praticamente abbiamo finito oggi intorno alle 2. Ma di solito iniziate sempre il giorno prima oppure a causa dello scherzo dell'anno scorso? No, 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 abbiamo sempre iniziato il giorno prima o due giorni prima, dipende. No, lo scherzo dell'anno scorso non c'entra niente. Cosa fate qui prima del falò? Prima del falò bisogna organizzare tutto il lavoro per bene. Certo questa è la nostra sede. Anche un po' un modo per stare inizia. Riunirsi sì, esatto. Esatto. Siete forse i più giovani. No, 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 e viva San Niccolo, e viva il Vaticano, e a basso San Geminiano. No, 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 e viva San Niccolo, e viva il Vaticano, e a basso San Geminiano. Da quanto tempo lei è qui a fare il falò? Da quanti anni? Da tanti anni, adesso non li ricordo tutti. Sono troppi. E è sempre stata così la tradizione o è cambiata in qualcosa? No, un po' più, un po' meno è sempre stata così. Forse adesso c'è un po' più di, come si può dire, di tecnica, ecco. Una volta tiravamo un po' a campare, ma se no altrimenti il falò è sempre stato così. Cioè la tradizione è sempre stata sentita. E questa rivalità con gli altifochisti di San Geminiano? La rivalità c'è sempre stata, dai tempi dei tempi. Noi non eravamo neanche nati da quando è iniziato questo contrasto tra contrade e via. Sono contrade poi praticamente. San Niccolo e San Geminiano sono due contrade. È sempre stata una rivalità molto accesa. E ho visto che ci sono anche tanti giovani, ventenni. È molto importante, molto importante perché inizialmente eravamo in pochi. e adesso pian piano tanti giovani forse si sono entusiasmati da questa cosa e danno un forte contributo. Inizialmente era limitata a poche persone. Adesso c'è il contributo di tante persone che vengono e praticamente, non so come dire, hanno preso un valore questi falò. Prima questo valore non l'avevano, non l'avevano per niente. Era soltanto una cosa rionale e rimaneva fine a se stessa in quell'ambito lì. Ovviamente prima e dopo il falò si mangia anche, no? Soprattutto prima. E tutte le cose locali offerte da noi, del nostro gruppo qua di San Nicolò, con tanta passione e con tanto amore. Perché noi a questa festa crediamo molto. E speriamo che continui nel tempo. Che cosa significa per voi questa festa? È un attaccamento alle nostre radici. Soprattutto. Soprattutto. Questo è il nostro rione dove siamo nate, cresciute, abbiamo avuto i nostri figli e speriamo che anche i nostri figli proseguano la nostra strada. Soprattutto. Soprattutto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.